Continua questa cappa di smog, avete in mente nuovi provvedimenti da prendere nel campo ambientale per quanto riguarda il trasporto? Da giovedì a Milano con il biglietto singolo si viaggia tutto il giorno, questo è uno stimolo sia per chi deve recarsi per lavoro e quindi può rinunciare la macchina, ma sia anche per lo shopping natalizio che può essere fatto a Milano in maniera assolutamente sostenibile, c'è anche il bike sharing gratis. Ci sono tante opportunità per fare una scelta sostenibile, poi certo se non fosse solo Milano ma fosse tutta la Lombardia a farlo magari le cose andrebbero anche meglio. Se l'inquinamento dovesse proseguire per parecchio tempo si studieranno anche altri provvedimenti? Tutti gli esperti ci dicono che però il problema è fare delle cose su aria vasta, visto che non è Milano ma è tutta la pianura padana ad avere PM10 alto, io auspico che a breve si aggiungano misure a livello Lombardo o anche di Nord Italia, perché pure Piemonte e Veneto ne hanno bisogno e che non siano solamente a Milano o a Torino come se fosse un problema solo delle città. Talgaterno e blocco del traffico, potrebbero essere una soluzione in questo periodo se la situazione non migliora? Noi ci siamo orientati più su nuove opportunità che su divieti, sui divieti abbiamo il blocco dell'aerotra e diesel in alcune fasce orarie, il tema non è aumentare i blocchi a Milano, è aumentare le opportunità su un territorio più vasto, mi auspico che dai treni al resto dei bus non a TM vi siano a breve offerte analoghe a quelle che ha fatto a TM. Il ruolo dell'area metropolitana di Milano? Dobbiamo superare il fatto che sono 20 anni che uno che pensa che il problema dell'inquinamento sia un tema della città di Milano, se tutte le centrale della pianura padana sono in difficoltà il problema è più vasto, Milano deve fare la sua parte, lo sta facendo, io spero bene, poi magari qualcuno può dire che dobbiamo fare di più, il tema è perché la fa solo Milano.